Sì, questi sono alcuni dei libri che ho scelto come regalo di Natale. Quando voglio bene a qualcuno, gli regalo sempre un libro. Ai giovani perché gli si insegna qualcosa, agli altri perché è un ricordo che dura. Qui Mondadori ha una grande scelta. Io spero che siano in molti a seguire il mio esempio e a regalare un libro. Qualcosa di un po' dimenticato. Natale Mondadori, buone idee per un buon Natale.